Nel terzo millennio, nel tempo di internet delle console di ottava generazione, le multinazionali stavano ingannando i popoli e riducendoli ad una schiavitù cerebrale. Le nuove uscite erano dei mostri, film interattivi dove la giocabilità era l'ultimo dei pensieri degli sviluppatori. Quando anche gli ultimi programmatori appassionati vennero licenziati e rimpiazzati da sceneggiatore e grafici, per il mondo dei videogiochi si stava avvicinando la fine. I videogiocatori di tutto il mondo invocavano il soccorso di un eroe per riconquistare la voglia di divertirsi. Finalmente arrivò Talcanyan, il guerriero retro-gamer. I vecchi classici, i videogiochi cult e le sfide più difficili vennero affrontati con indomito coraggio da colui che solo poteva cambiare il mondo. Grazie a tutti i nostri spettatori di tutti i nostri spettatori di tutto il mondo.